ciao amiche di filo per questo progetto o utilizzerò questo tessuto qui che è un tessuto fantasia bellissimo meraviglioso lo ritaglio l'ho ritagliato seguendo il carta modello che trovate qui nella casella delle informazioni così con il tessuto in doppio allora le misure in realtà sono 13,5 per 43 guardate che bella questa fantasia è la fantasia principale l'abbino con un tessuto invece diciamo monocromatico ok che fa un bel contrasto e questo tessuto di base lo vado a rinforzare con questa imbottitura termoadesiva è un'imbottitura molto leggera fantastica per questo progetto se tuttavia non avete questo tipo di imbottitura ma avete quella non termoadesiva purché sia abbastanza sottile la potete trapuntare come quest'altro che ho che sto preparando nel caso in cui è termoadesiva mettete la parte con la colla sul retro del tessuto e quindi si applica con il ferro da stiro con una lieve pressione così si fa ovviamente per tutta la lunghezza se non avete questa potete utilizzare la normale teletta termoadesiva di rinforzo il cartamodello lo vado ora a ritagliare qui dove c'è la curva con le forbici per la carta e con precisione e lo applico sulla parte del tessuto non rinforzato su quello cioè decorato lo applico così e riporto praticamente tutto il contorno con con il gessetto oppure con una pena mi raccomando fatelo concidere con la parte alta e quindi con il lato corto deve essere aderente e poi ritaglio proprio sulla linea che ho tracciato quest'operazione si deve fare con cura perché diciamo poi questa parte deve essere diciamo perfetta ecco qua quindi io controllo pure di nuovo con il cartamodello eventualmente lo risistemo per bene adesso sovrappongo dritto su dritto il tessuto decorato con quello monocromatico e su questo lato che non ho sacomato farò una cucitura con il punto dritto quindi faccio la cucitura su questo lato qui a bordo piedino lunghezza del punto 3,5 mm blocco il punto all'inizio alla fine della cucitura ora tolgo gli spilli che ho messo per tenere insieme i tessuti e li giro sul dritto vedete giro così sul dritto e vado a ribattere proprio questa parte qui quindi sistemo per bene questa parte alta e quindi rifaccio di nuovo la cucitura con il punto dritto fate attenzione ad utilizzare anche dei fili in tinta anche in questo caso mi muovo a bordo piedino bloccando il punto all'inizio e alla fine della cucitura ed ecco qua ribattuto il pezzo vedete ora apro in questo modo e sulla parte diciamo nera quindi non decorata vado a staccare i 14 cm dalla parte alta dispiace l'inquadratura non è perfetta però dal bordo stacco 14 cm e poi ripiego questa parte qui che ho ribattuto fino a queste marche qui che ho messo è importante fare con cura questa operazione e quindi ricontrollo proprio da questo bordo fino alla fine del tessuto che siano proprio 14 cm eventualmente sistemo per bene e poi ripiego l'altro tessuto così e li faccio combaciare blocco per bene con gli spigli e ricontrollo di nuovo se anche questa parte qui è diciamo questa misura è la stessa è circa 14 cm anche questo e quando sono proprio sicura che tutto sistemato con precisione mi raccomando fate con cura queste queste semplici operazioni procedo con la cucitura che deve oltrepassare questo bordo qui quindi cucitura su tutto questo contorno fino ad oltrepassare diciamo il bordo e poi faccio la cucitura anche su questo lato qui l'altro lascerò libero quindi alla macchina da cucire lunghezza del punto di tre blocco il punto all'inizio della cucitura e procedo proprio a bordo piedino guardate io ho preso come riferimento il tessuto decorato che è quello tagliato diciamo con maggiore precisione dove c'è peraltro anche la curva mentre l'altro non l'ho non l'ho ritagliato quindi mi muovo con a bordo del piedino e faccio con cura questa operazione tutte queste operazioni sono semplici ma vanno fatte con cura altrimenti diciamo il risultato finale non è non è non è perfetto ecco quindi fino alla marca e quindi blocco di nuovo il punto adesso tolgo gli spilli e procedo a cucire proprio la parte decorata quindi il tessuto decorato partendo dal basso e arriverò fino alla cucitura e per un punto diciamo lo vado anche a sovrastare blocco sempre la cucitura vedete ho fatto tutta questa cucitura qui questa è rimasta aperta ecco qua quindi facilissimo di qua è tutto chiuso allora fa terminata la cucitura vedete qui è aperto questo ci consentirà poi di risvoltare il tutto e con le forbici elimino su questa zona curva il tessuto e l'imbottitura lasciando un bordo di circa mezzo centimetro quindi un bordo molto stretto e poi giro sul dritto quindi lasciando un piccolo bordo non ho la necessità di fare i taglietti e giro tutto quanto sul dritto allora adesso questa parte decorata la sposto questa parte qui la mando verso l'interno la allontano dall'apertura che adesso dovrò cucire quindi per paura di intercettarla con le mani sistemo bene questo bordo peraltro è anche facile da fare quindi lascio una quantità costante che è circa 075 quindi sistemo per bene questo bordo qui lo blocco ecco e adesso io per sicurezza controllo anche questa misura sia costante quindi che effettivamente ho sistemato bene il bordo e quindi procedo a chiuderlo con una cucitura io lo faccio con una cucitura a mano ma neppure con un punto nascosto con un punto guardate che prende per bene e due lembi di tessuto siccome il tessuto il filo è nero dello stesso colore del tessuto non si vedrà niente vedete l'effetto finale lo potete tuttavia aiutare anche con la macchina da cucire quindi questa parte qui era lontana e non l'ho intercettata adesso giro tutto sul dritto prima con le mani così sistema il tutto e poi ecco vedete che carino bellissimo suo tessuto allora qui vado a tirare fuori gli angoletti ecco qua mi aiuto anche con gli spigli eventualmente se non se avete la necessità allora adesso questa parte alta la sistema per bene così con le mani e faccio una cucitura di ribattitura la faccio con un filo in tinta vedete il faccio questa cucitura così bloccando un punto dritto bloccando per bene all'inizio e alla fine e quindi rimane ben ribattuto anzi già l'ho fatta io adesso questi sono gli anelli che si utilizzano per le tende anche per questi vi lascio le indicazioni nella casella delle informazioni quindi le trovate nelle ferramente oppure ecco si acquistano online allora prendo questo anello e lo vado a posizionare in modo da lasciare circa tre centimetri in alto e una quantità di tessuto che è la stessa sia su un lato che sull'altro in modo proprio da centrarlo per bene quindi fatto questo qui ricontrollo pure in alto che ci siano almeno tre centimetri vado a tracciare questo cerchio ecco qua ritaglio adesso proprio sulla linea faccio con cura queste operazioni cioè come vi ripeto sono tutte operazioni molto semplici ma vanno fatte con cura per avere un bel risultato ora allargo leggermente questo foro togliendo qualche millimetro ulteriore di tessuto quindi cerco di mantenere di rimanere comunque aderente a questo cerchio ma tolgo qualche millimetro di tessuto quindi prendo l'anello che avevo aperto lo inserisco questo è il maschio vedete lo incastro per bene così guardate va alla perfezione e poi con una semplice pressione ecco qua è applicato guardate che carino già mi piace tantissimo e qui al centro dovrò applicare il bottone a pressione quindi il centro lo individuo con il metro proprio a metà di questa lunghezza e faccio un foro ed applico il maschio di questo bottone a pressione il colore abbinatelo ovviamente al tessuto che state utilizzando ripiego poi così individuo la posizione di quello che sarà l'altra parte del bottone e la vado ad applicare fate attenzione alle mani in questo caso con il punteruolo quando utilizzate il punteruolo e poi inserite la parte all'interno questa all'esterno e poi si procede a bloccare questi bottoni con l'apposita pinza chi non l'ha mai fatto trova qui sul canale un tutorial proprio per per applicare questa per applicare bottoni con questa pinza qui e quindi si può chiudere tranquillamente che bello bellissimo e questo è l'interno allora io il cavetto il mio cavetto molto lungo e quindi lo vado a chiudere con questo ferma cavi diciamo così e metto anche il caricabatterie all'interno lo chiudo così come un astuccio e lo posso portare con me in ufficio anche fuori casa in vacanza e così via e dopo praticamente il mio caricabatterie all'occorrenza tiro fuori il cavetto il caricabatterie e lo posso praticamente utilizzare questa è una versione più romantica più classica diciamo così meravigliosa fatta sempre con le stesse misure gli stessi criteri questa invece è una versione da uomo con il tessuto basico trapuntato e con tessuti un pochino più diciamo adatti ad un uomo amiche mi raccomando lasciatemi un bel like realizzatene tantissimi per la festa della mamma e del papà io vi saluto vi abbraccio ciao ciao